Credo che, come abbiamo detto appunto a Cagliari, il ruolo della Chiesa italiana sia di essere di stimolo, di essere anche coscienza critica del Paese, perché il problema è sempre quello di appiattirsi o su slogan o su, come sottolinea bene anche prima, pezzotta, alla fine su discorsi e proposte generiche, coscienza critica e soprattutto impegnarsi fino in fondo per il bene comune che è il bene di tutti, al di là di personalismi, di egoismi privati, di visioni settarie, di populismi. Qui veramente l'impegno è per il bene comune e come diceva negli anni 50 la Pira, di cui ho cercato sempre di essere discepolo, per il bene della povera gente, che in fondo sono le necessità di fondo, la casa, il lavoro, il pane, la scuola, l'ospedale, l'assistenza e poi la grazia, perché l'uomo ha anche una dimensione spirituale e soprannaturale, non è soltanto una macchina umana, però pane e grazia sono i problemi concreti della gente che in questo momento ci sta a cuore affrontare e vorremmo che la politica con la P maiuscola veramente facesse sinergia in questo senso.